È una settimana ricca di eventi e carica di importanti significati, quella organizzata da Ambiente e Vita denominata Sospiri della Natura, in programma dal 26 al 30 luglio per ricordare il suo fondatore Nino Sospiri. Una serie di iniziative che pongono l'uomo al centro dell'ambiente in sintonia con i principi ispiratori dell'associazione che mirano lo sviluppo turistico del territorio attraverso la valorizzazione delle quattro riserve naturali gestite da Ambiente e Vita, alle quali recentemente si è aggiunta quella del Borsacchio. Si inizierà alle ore 15 di mercoledì 26 luglio a Villa Sant'Angelo con la visita alle grotte di Stiffe e poi con la formalizzazione della donazione al comune dell'asilo intitolato a Nino Sospiri. Via via ci saranno altre iniziative fino alle 30 di luglio. Sono anche iniziative che vanno a presentare le nostre attività, le nostre riserve e anche altre iniziative come per esempio la donazione dell'asilo Nino Sospiri al comune di Villa Sant'Angelo all'Aquila fatto successivamente al terremoto e da ultimo la spiaggia a caratterizzazione ambientale a Rocca San Giovanni che sono due cose molto importanti che non riguardano le gestioni dirette delle riserve ma riguardano altre attività che a nostro avviso sono ancora più significative. Che cos'è l'Associazione Ambiente e Vita? L'Associazione Ambiente e Vita è un'associazione ambientalista che è riconosciuta dal Ministero sin dal 2001 è stata fondata nel 1994 appunto da Sospiri e che ha una storia lunga alle spalle che negli ultimi anni abbiamo cercato di insomma di riattivare bene in Abruzzo gestisce 5 riserve regionali, abbiamo migliaia di iscritti in tutta Italia e quest'anno insomma ci siamo rafforzati particolarmente.